Sempre più saracinesche abbassate nel centro storico di Fano, la moria di negozi continua imperterrite e sono anni ormai che il fenomeno continua a dare il colpo di grazia alla pandemia che non ha risparmiato nessuno e ora le attività chiudono una dietro l'altra, sia le catene commerciali che le piccole botteghe considerate da sempre il motore di ogni città. Questa mattina passeggiando nelle vie principali abbiamo contato 29 negozi chiusi, in quasi tutti un cartello affisso alla vetrina o alla porta d'ingresso con vendesi o affittasi. E anche in piazza 20 settembre ci sono due negozi chiusi, il primo quello che ospitava la Vodafone che si trova di fronte alla Fontana, l'altro quello che vedete alle mie spalle, c'è ancora un cartello con su scritto ultimi giorni tutto a 20 euro e poi sabato scorso è stata chiusa anche questa attività. Vuoi per le catene internazionali, per i grandi centri commerciali o le vendite online? Fatto sta che più passa il tempo e più la crisi si fa sentire, oggi poi si aggiunge il problema dell'incertezza del lavoro e delle aperture legati all'andamento dell'emergenza sanitaria, motivo per il quale sia le vendite natalizie che i saldi invernali non hanno portato grossi benefici alle attività, a contribuire anche di vieti di spostamento. Gli imprenditori chiedono quindi più ristori da parte dello Stato e lanciano appelli ai cittadini affinché acquistino locale, ma c'è anche chi, come i ristoratori, chiede al Comune di riproporre il provvedimento per l'occupazione del suolo pubblico e l'azzeramento del canone TOSAP, un'azione che ha limitato le pesanti perdite di fatturato e che ha aiutato la categoria nella scorsa estate anche per rispettare più facilmente le tante norme anticontagio. Intanto se da una parte c'è chi molla e chiude attività storiche o decennali, dall'altra c'è chi apre nonostante le difficoltà, come gli affitti elevati che spesso tagliano le gambe agli imprenditori. Così a scendere in campo a supporto del commercio è stata l'amministrazione comunale che ha pensato di mantenere attiva la filodiffusione per tutto il mese, mentre dal 10 febbraio fino a Pasqua verrà installata un'illuminazione scenica con un cielo stellato sopra la città. Inoltre da oggi parte Racconta Fano, un concorso dedicato a cittadini turisti che possono pubblicare foto e video con questi hashtag su Facebook o Instagram. Nelle immagini dovranno esserci prodotti artigianali o enogastronomici della tradizione locale che richiamino l'identità della città, oppure acquisti nelle attività economiche di qualsiasi prodotto ma con la presenza di un tratto distintivo di Fano. Vinceranno quelle che raggiungeranno il maggior punteggio derivato dalla somma di mi piace, numero di commenti e di condivisioni. Il concorso terminerà domenica 4 aprile.